Dopo settimane di trattative è stato trovato un accordo sulla convenzione tra i titolari dei mercati in autogestione e il Campidoglio. Il comune, ha spiegato il presidente della FIVA Confcommercio, Walter Papetti, è venuto incontro ad alcune nostre richieste. Nel documento è stata ufficializzata l'adozione di un meccanismo di premialità. Più un AGS dimostra di aver speso bene i suoi soldi, più facilmente rientra nella prima fascia di pagamento, vale a dire il 20% del canone annuo. Gli operatori però contestavano altri punti del contratto come l'anticipo dei sei mesi da versare al Campidoglio nel momento della firma e la mancanza di un certificato che descrivesse lo stato del banco una volta consegnato alle AGS. Vigileremo, conclude Papetti, che quanto promesso avvenga davvero. La nuova convenzione partirà dal 1 gennaio ma la fascia di premialità scatterà dal 2020, quindi per il prossimo anno i mercati dovranno pagare tutti il 35%. È il miglior contratto che potessimo fare, ha dichiarato l'assessore al commercio Carlo Caffarotti. Abbiamo parlato tanto con gli operatori per trovare un accordo e ci siamo riusciti. In questo modo verranno amministrati meglio i soldi.